Pirandello, l'avemaria di Bobbio Purtroppo Bobbio aveva in bocca più di un dente guasto e niente secondo lui poteva meglio disporre allo studio della filosofia che il mal di denti Tutti i filosofi a suo dire avevano dovuto avere e dovevano avere in bocca almeno un dente guasto Schopenhauer certo più di uno Il mal di denti, lo studio della filosofia e lo studio della filosofia a poco a poco aveva avuto per conseguenza la perdita della fede Fervidissima un tempo quando Bobbio era fanciullino e ogni mattina andava messa con la mamma e ogni domenica si faceva la santa comunione nella chiesetta della Badiola al Carmine Ciò che conosciamo noi è però solamente una parte e forse piccolissima di ciò che siamo a nostra insaputa Bobbio anzi diceva che ciò che chiamiamo coscienza è paragonabile alla poca acqua che si vede nel collo di un pozzo senza fondo e intendeva forse significare con questo che oltre i limiti della memoria vi sono percezioni e azioni che ci rimangono ignote perché veramente non sono più nostre ma di noi quali ora siamo viviamo in noi quali fummo in altro tempo con pensieri affetti già da un lungo oblio oscurati in noi cancellati, penti ma che al richiamo improvviso ad una sensazione che a sapore sia colore o suono possono ancora dar prova di vita mostrando ancora vivo in noi un altro essere insospettato Marco Saverio Bobbio ben noto a richieri non solo per la sua qualità di eccellente e scrupolosissimo notaio ma anche forse più per la gigantesca statura che la tuba, trementi e la pancia esorbitante rendevano spettacolose ormai senza fede e scettico aveva tuttora dentro e non lo sapeva il fanciullo che ogni mattina andava a messa con la mamma e le due sorelline e ogni domenica si faceva la santa comunione nella chiesetta della Vadiola al Carmine e che forse tuttora all'insaputa di lui andando a letto con lui per lui giungeva le manine e recitava le antiche preghiere di cui Bobbio forse non ricordava più neanche le parole se ne era accorto bene lui stesso parecchi anni fa quando appunto gli era occorso questo singolarissimo caso si trovava a villeggiare con la famiglia in un suo poderetto a circa due miglia da richieri andava la mattina col somarello povero somarello in città per gli affari dello studio che non gli davano requie ritornava la sera la domenica però la domenica voleva passarsela tutta e beatamente in vacanza venivano parenti amici e si facevano gran tavolate all'aperto le donne attendevano a preparare il pranzo o ci calavano i ragazzi facevano il chiasso tra loro i uomini andavano a cazza o giocavano alle bocce era uno spazio e uno spavento veder correre Bobbio dietro alle bocce con quei trementi e il pancione traballanti Marco gli gridava la moglie da lontano non ti strapazzare vada Marco se starnuti perché dio liberi se Bobbio starnutava era ogni volta una terribile esplosione da tutte le parti e spesso tutto sgocciolante doveva correre ai ripari con una mano davanti e l'altra dietro non aveva il governo di quel suo corpaccio pareva che esso rompendo ogni freno gli scappasse via gli si precipitasse sbalestrato lasciando tutti con l'anima pericolante in atto di pararglielo quando poi gli ritornava in dominio riequilibrato gli ritornava con certi strani dolori e guasti improvvisi a un braccio a una gamba alla testa più spesso ai denti i denti i denti erano la disperazione di Bobbio se ne era fatti strappare cinque sei non sapeva più quanti ma quei pochi che gli erano restati pareva si fossero incaricati di torturarlo anche per gli altri andati via una di quelle domeniche che era sceso in villa da richieri il cognato con tutta la famiglia moglie e figli e parenti della moglie e parenti dei parenti cinque carrozzate e si era stati allegri più che mai pum all'improvviso sul tardi giusto nel momento di mettersi a tavola uno di quei dolori ma di quelli per non guastare agli altri la festa il povero Bobbio si era ritirato in camera con una mano sulla guancia la bocca semiaperta e gli occhi come di piombo pregando tutti che attendessero a mangiare senza darsi pensiero di lui ma un'ora dopo era ricomparso come uno che non sapesse più in che mondo si fosse un molino a vapore proprio un molino a vapore strepitoso rombante era potuto entrargli nella testa e macinargli in bocca sì sì in bocca in bocca furiosamente tutti erano rimasti sorpresi e costernati a guardargli la bocca come se davvero s'aspettassero di vederne colar farina ma che farina bava bava gli colava non questo soltanto però era assurdo tutto era assurdo nel mondo e mostruoso e atroce non stavano lì tutti a banchettare festanti mentre lui arrabbiava impazziva mentre l'universo gli si scompassava nella testa alzando con gli occhi stravolti la faccia congestionata le mani sfarfallanti levava come un orso ora una cianca ora l'altra da terra e dimanava la testa come se la volesse sbattere alle pareti tutti gli atti e i gesti erano nell'intenzione di rabbia e violenti ma si manifestavano molli e in vano quasi per non disturbare il dolore per non arrabbiarlo di più per carità per carità a sedere a sedere oddio lo volevano fare impazzire peggio saltandogli addosso così a sedere a sedere niente nessuno poteva dargli aiuto ciocchezze imposture niente per carità non poteva parlare uno solo andasse giù uno solo a far attaccare subito i cavalli a una delle carrozze arrivate la mattina voleva correre a richieri a farsi strappare il dente subito subito intanto tutti a sedere appena pronta la carrozza ma no voleva andare su solo non poteva sentir parlare non poteva veder nessuno per carità solo solo poco dopo in carrozza solo come aveva voluto abbandonato sprofondato perduto nel rombo dello spasimo atroce mentre lungo lo stradone in salita i cavalli andavano quasi a passo nella sera sprovveduta ma che era accaduto nello sconvolgimento della coscienza Bobbio all'improvviso aveva provato un tremore un tremito di tenerezza angosciosa per se stesso che soffriva oddio soffriva da non poterne più la carrozza passava in quel momento davanti a un rozzo tabernacolo della santissima vergine delle grazie con un lanternino acceso pendulo innanzi alla grata e Bobbio in quel fremito di tenerezza angosciosa con la coscienza sconvolta senza sapere più quello che si facesse aveva fissato lo sguardo lagrimoso a quel lanternino e Ave Maria piena di grazia il Signore è con te benedetto tra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo ventre Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori ora è nell'ora della nostra morte così sia e all'improvviso un silenzio un gran silenzio gli sarà fatto dentro e anche fuori un gran silenzio misterioso come di tutto il mondo un silenzio pieno di freschezza arcanamente lieve e dolce si era tolta la mano dalla guancia ed era rimasto attonito sballordito ad ascoltare un lungo lungo respiro di refrigerio di sollievo gli aveva ridato l'anima oddio ma come il mal di denti gli era passato era proprio passato come per un miracolo aveva recitato l'Ave Maria e come lui ma sì passato c'era poco da dire per l'Ave Maria come crederlo gli era venuto di recitarla così all'improvviso come una femminuccia la carrozza intanto aveva seguitato a salire verso i richieri e Bobbio intronato avvilito non aveva pensato di dire al vetturino di ritornare indietro alla villa una pungente vergogna di riconoscere prima di tutto il fatto che lui come una femminuccia aveva potuto recitare l'Ave Maria e che poi veramente dopo l'Ave Maria il mal di denti gli era passato lo irritava e lo sconcertava e poi e poi il rimorso di riconoscere anche nello stesso tempo che si mostrava ingrato non credendo non potendo credere che si fosse liberato dal male per quella preghiera ora che aveva ottenuto la grazia e infine un segreto timore che per questa ingratitudine subito il male lo potesse riassalire ma che il male non lo aveva riassalito e rientrando nella villa leggero come una piuma ridente esultante a tutti i convitati che gli erano corsi incontro Bobbio aveva annunciato niente è passato tutto un tratto da sé lungo lo stradone poco dopo il tabernacolo della Madonna delle Grazie da sé or bene a questo suo singolarissimo caso di parecchi anni fa pensava Bobbio con un risolino scettico a fior di labbra un dopo pranzo steso sulla greppina dello studio col primo volume degli esseri di Montaigne aperto innanzi agli occhi leggeva il capitolo 27 dove è dimostrato che se folì della portere vra e le faux a notre suffisance era nonostante quel risolino scettico alquanto inquieto e leggendo si passava di tratto in tratto una mano sulla guancia destra Montaigne diceva autentica autentica di aver veduto sulle reliquie di San Gervaso e Protaso a Milano un fanciullo cieco riacquistare la vista una donna a cartagine guarire di un cancro col segno della croce fatto visopra da una donna di recente battezzata ma allo stesso modo il gran Sant'Agostino avrebbe potuto affermare o diciamo autenticare su mia testimonianza che Marco Severio Bobbio notaio richieri tra i più stimati guarì una volta all'improvviso ad un feroce mal di denti recitando un Ave Maria Bobbio chiuse gli occhi accomodò la bocca adò come fanno le scimmie e mandò fuori un po' d'aria oh fiato cattivo strinse le labbra e piegando la testa da un lato sempre con gli occhi chiusi si passò di nuovo più forte la mano sulla mandibola per Dio il dente oh non gli faceva male di nuovo il dente e forte anche gli faceva male per Dio di nuovo sbuffò si levò in piedi faticosamente buttò il libro sulla greppina e si mise a passaggiare per la stanza con la mano sulla guancia e la fronte contratta e il naso ansante si recò davanti allo specchio della mensola si cacciò un dito a un angolo della bocca e la stirò per guardarvi dentro il dente cariato all'impressione dell'aria sentì una fitta più acuta di dolore e subito serrò le labbra e contrasse tutto il volto per lo spasimo poi levò il volto al soffitto e scosse le pugna esasperato ma sapeva per esperienza che ad avvilirsi sotto il male o ad arrabbiarsi avrebbe fatto peggio si sforzò dunque di dominarsi andò a buttarsi di nuovo sulla greppina e vi rimase un pezzo con le palpebre semi chiuse quasi a covar lo spasimo poi li riaprit riprese il libro e la lettura «Enfin ne voglio man baptizzare lui fi esperius non appresso ah ecco » Egi è in processione ayant touché alla chasse Saint-Etienne d'un boucher e di ce bouquet se t'ont frutté le gier a voir recouvrere la veine qui la voie piegare per d'ile l'obbio ghignò il ghigno si contorse subito in una smorfia per un tiramento improvviso del dolore ed egli vi applicò la mano su forte a pugno chiuso il ghigno era di sfida e allora disse vediamo un po' montagna e Sant'Agostino mi siano testimoni vediamo un po' se mi passa ora come mi passò allora chiuse gli occhi e col sorriso frigido sulle labbra tremanti per lo spasimo interno recitò pian piano con stento cercando le parole l'Ave Maria questa volta in latino grafia piena dominus tecum fructus ventris tui nunca tinora mortis riaprì gli occhi amen attese un po' interrogando in bocca il dente amen ma che non gli passava e si faceva anzi più forte ecco ai ai più forte più forte oh Maria oh Maria e proprio rimase sbalordito quest'ultima ritenata invocazione non era stata sua era uscita dalle labbra con una voce non sua un fervore non suo e già ecco una sosta un refrigerio possibile di nuovo ma che oh no ai 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 al diavolo Montaigne Sant'Agostino e Bobbio si cacciò la tuba in capo e grondato feroce con la mano sulla guancia si precipitò in cerca di un dentista recitò o non recitò durante il tragitto senza saperlo di nuovo l'ave Maria forse sì forse no il fatto è che davanti alla porta del dentista si fermò di botto più che mai aggrondato con rivoli di sudore per tutto il faccione in tale buffo atteggiamento di balorda sospensione che un amico lo chiamò signor notaio beh che fa lì io niente avevo un un dente che mi faceva male l'hai passato già da sé e lo dice così sì l'ho dato dio bobbio lo guardò con una grinta da cane idrofobo un corno gridò che l'ho dato dio vi dico da sé ma perché vi dico così vedrete che forse di qui un momento mi ritornerà ma sapete che faccio non mi due più ma me lo faccio strappare lo stesso tutti me li faccio strappare a uno a uno tutti ora stesso me li faccio strappare non voglio di questi scherzi non voglio più di questi scherzi io tutti a uno a uno me li faccio strappare e si cacciò furibondo tra le rise di quell'amico nel portoncino del dentista che cacciò che cacciò che cacciò non voglio più la che cacciò Grazie a tutti